L'amministrazione comunale con l'arrivo della stagione primaverile ha programmato il ritorno del Lungomare Fest a cominciare da domenica 7 aprile con la chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania dalle ore 10 alle ore 19 da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia. Un fronte mare pedonalizzato lungo circa 1,8 chilometri che per l'intera giornata domenicale, oltre alle passeggiate libere, ospiterà anche mercatini dell'artigianato promossi dall'assessorato alle attività produttive posizionati sul marciapiedi da Piazza Franco Battiato fino a Piazza Tricolore. Ma anche gli stand promozionali per la Corri Catania e la mobilità ciclistica. Inoltre è previsto uno spazio anche per i mini ciclisti. Lungomare Fest, un appuntamento per migliaia di cittadini che prevedibilmente approfitteranno dell'evento per intrattenersi all'aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini. Nello splendido lungomare roccioso, libero dalle auto e riqualificato nelle piazze Sciascia, Europa e Franco Battiato, rinnovate e finalmente provviste di moderni attrezzi e giochi per lo sport e il tempo libero di adulti e bambini, dopo i lavori di rigenerazione che sono stati promossi dall'amministrazione comunale.